Pienissima di calore familiare, ecco la casa di Vanessa Incontrada. La casa dell'attrice e conduttrice televisiva Vanessa Incontrada fa trasparire molto calore familiare. Un esempio a questo proposito è la cucina. Incentrata su colori come quello del legno e il bianco, è dotata di mobili semplici e lineari, ma ha un clima davvero amorevole. Vanessa vi ama stare assieme ai suoi cari. E nella stanza è presente anche un tavolino circondato da sedie dal taglio moderno e geometrico. Nel resto della casa non mancano mensole arricchite di numerose fotografie, che immortalano i momenti più belli degli affetti di casa Incontrada. In sala si trova un ampio divano grigio, su cui Vanessa ama riposare assieme a suo figlio Isal, sin da quando era appena nato. Ora suo figlio è cresciuto, ma il divano è ancora un valido aiutante per tutti coloro che, in casa, vogliono stare comodi, come la cagnolina Gina. Il resto della casa ha un sapore shabby chic, grazie anche alle fotografie con cornici linee appese alle pareti, che danno l'atmosfera domestica un'aria romantica. L'angolo studio di Isal è però più moderno. Figurano un tavolino trasparente su cui è appoggiato il computer per fare i compiti, numerosi quaderni e tantissime fotografie di famiglia. La vena artistica di Vanessa è stata ereditata da suo figlio, che però le dà vita attraverso la musica. Per questo motivo, in casa della conduttrice, non può mancare un grande pianoforte con cui il ragazzo si può esercitare.